ciao ragazzi benvenuti sul canale dell'architetto ricordate di mettere un bel mi piace ed iscrivervi al canale oggi vedremo come duplicare i comandi di un telecomando fac di questo genere qua da copiare da copiare su il telecomando universale della dfmatic evomatic questo telecomando permette effettivamente di supportare più tipologie di telecomandi dal rolling code a questi qua della della fac a quelli a codice fisso basta applicare la procedura di memorizzazione apposita ora seguitemi nel tutorial per vedere come procedere alla programmazione allora si procede a programmare in questo modo schiaccia il tasto 1 del telecomando che deve essere programmato quattro volte il tasto 2 fino a quando diventa rossa la spia si tiene premuto il tasto quello già programmato del telecomando originale fino a quando cambia lampeggio della spia che diventa fisso e poi quando lampeggia si attiva il codice premendo contemporaneamente 1 e 2 insieme e si schiaccia il tasto già memorizzato quando cambierà lampeggio in questo momento fa lampeggio blu veloce si schiaccia il tasto sul quale si vuole andare a memorizzare il tasto da duplicare ciao a tutti ricordatevi di mettere un bel mi piace e iscrivervi al canale ciao a tutti 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 Grazie a tutti.